La Scuola Normale Superiore di Pisa avvia tre importanti ricerche nell'ambito del Piano Strategico della Cultura di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Pistoia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la Fondazione Marino Marini. L'iniziativa riguarda tre realtà museali pistoiesi, il progetto denominato Piano di Sviluppo del Museo Civico dell'Antico Palazzo dei Vescovi e della Fondazione Marino Marini con sede in Pistoia è stato approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana e prevede l'attivazione di tre assegni di ricerca di durata biennale. Gli obiettivi del progetto sono l'aggiornamento scientifico delle conoscenze relative alle collezioni possedute dai tre istituti. La Scuola Normale Superiore di Pisa, a seguito di bandi pubblici, ha scelto tre giovani studiosi ai quali sono stati assegnati gli incarichi biennali di ricerca Giacomo Guazzini, Gaia Ravalli, Gianmarco Russo che dovranno svolgere l'attività di ricerca sul patrimonio artistico dei tre musei. L'attività sarà svolta secondo le indicazioni e sotto la direzione del professor Francesco Cagliotti, coordinatore generale del programma e del professor Flavio Fergonzi, responsabile scientifico del progetto Pistoiese. I tutor dei tre ricercatori saranno Elena Testaferrata per il Museo Civico, Giuseppe Gerpelli per l'Antico Palazzo dei Vescovi e Barbara Cinelli della Fondazione Marino Marini.